Poco dopo le 9.30, al terzo piano del municipio, presso l'ufficio pianificazione urbanistica, è stato depositato il progetto del gruppo Emozioni Alto Adige per la riqualificazione della zona compresa tra la stazione delle autocorriere e la stazione ferroviaria di Bolzano. Prima tappa di un'iter abbastanza lungo, ma alla data di oggi era attesa da parecchi mesi. A depositare materialmente il voluminoso pacco contenente il progetto del gruppo Emozioni Alto Adige, che riunisce, lo ricordiamo, 37 imprenditori altoatesini, sono stati Paul Falzer, che è un addetto alla logistica di Sportler, negozio della famiglia Oberau che guida la cordata e Claudio Dal Gobbo, dello studio di progettazione AIG di Bolzano. Ad accogliergli Stefano Rebecchi, direttore della ripartizione pianificazione del comune di Bolzano. Ma il colpo di scena è venuto poco prima delle 12.30, orario fissato come l'ultimo utile per presentare i progetti. Il gruppo Benco ha presentato a sorpresa il suo, dopo che nelle scorse settimane aveva preannunciato il forfè. Di seguito riunione della Giunta Comunale per prendere atto dei progetti presentati. Ora tra conferenza dei servizi e passaggio obbligato in Consiglio Comunale passeranno alcuni mesi, poi in caso di via libera il comune dovrà indire un bando di gara perché tutto il progetto, o buona parte di esso, si sviluppa su terreni di sua proprietà. L'offerta migliore vincerà e si torna a parlare di una possibile alleanza che fino a qualche mese fa era impensabile, quella tra Benco e il gruppo Oberauk. Noi non abbiamo mai escluso collaborazione perché siamo dei imprenditori che vogliono sviluppare qualche cosa, vogliono sostenere il sviluppo della città e imprenditori sanno che collaborando si riesce ad arrivare ad obiettivi più ambiziosi che se ognuno fa quello che vuole fare da solo. Un simbolo è la nostra società dove abbiamo riunite 37 imprenditori piccoli e grandi della provincia e abbiamo 37 imprenditori che stanno strettamente collaborando e mettendo a disposizione al comune se il comune lo vuole le loro capacità e i loro talenti e se viene qualcun altro che vuole discutere con noi di collaborare siamo sempre a partissimi.